Salva gente, ci siamo, inizia il campionato, fortunatamente, finalmente, ripartiamo con i milanesi questa sera e domani la Lazio e anche la Roma, molti mi state chiedendo già da diversi giorni un parere, un pronostico di classifica futura, come finirà il campionato, chi sono le squadre più forti, chi lotterà per lo scudetto, insomma ho risposto ovviamente su Instagram a chi mi ha posto le domande, risponderò anche qui, non solo, molti mi stanno ancora tra virgolette amichevolmente provocando sul discorso mercato della Lazio, come se non avessero ancora capito il mio punto di vista, comunque andrò anche a ribadire questo in questo video, intanto tu che lo stai vedendo, iscriviti al canale se ancora non avessi fatto, clicca sulla campanellina per rimanere il giorno su tutti i contenuti, lascia un like sempre e comunque prima di abbandonare ogni video di questo canale e poi se anche a te ti andrà di fare qualche domanda e seguirmi su Instagram mi trovi come nostrafamous76. Allora ragazzi, non mi nascondo ovviamente nel dare dei pronostici, non ho avuto tempo di fare proprio le belle grafiche, così andiamo al soto. Secondo me ci sono due squadre che se la possono giocare bene, bene quest'anno, però parto dal fondo, ovvero fino all'anno scorso dicevo che c'erano otto sorelle, otto sorelle perché ci mettevo dentro la Fiorentina e dentro ci stava di diritto l'Atalanta. Quest'anno devo dire per quello che vedo e per il mercato che ho visto, credo purtroppo che le sorelle ridiventino sette, ovviamente amici di Bergamo spero di sbagliarmi ma credo che l'Atalanta non sarà una di quelle come l'anno scorso che darà molto filo da torcere. Ovviamente potrei sbagliarmi e anzi tante volte quando dico queste cose spero veramente di sbagliarmi perché sapete che a me l'Atalanta è una società, è una squadra che piace, però mi sembra che gli investimenti siano andati molto a calare, che tutto quello che mi sembrava un meccanismo che dalla società alla primavera, insomma tutto quello che mi sembrava veramente un esempio calcistico qui in Italia, mi sembra che si sta piano piano un po' sgredolando. Ed è rimasta una squadra a cui non so dare valore, però non mi sembra perché già l'anno scorso ha zoppicato, mi sembra un po' che si sia tra virgolette un po' ridimensionata rispetto alle altre. Quindi la metto purtroppo ottava in questa classifica. Per quanto riguarda invece la zona settimo, sesto e quinto posto, per me qui ci sono tre squadre che si giocano queste posizioni, che sono Lazio, Napoli e Fiorentina. Non saprei dire chi è più forte dell'altro, onestamente per vari motivi il Napoli si è ridimensionato molto ma comunque qualche acquisto l'ha fatto. La Fiorentina secondo me si è potenziata invece molto, quindi potrebbe facilmente migliorare la sua posizione rispetto allo scorso anno. E la Lazio invece sta ripartendo quasi da zero. Acquisti nuovi, molti giovani, dipenderà quest'anno soprattutto secondo me da Sarri. Veramente questo è proprio l'esame di maturità di Sarri. E per quanto riguarda il mercato ragazzi vi ho detto, io il mercato della Lazio, una società che dall'allenatore, i giocatori che a quanto pare ha anche chiesto, perché ieri Lodito ha detto proprio abbiamo completato e dato a Sarri quello che aveva scritto sulla lista, cioè tutti i giocatori che ci aveva scritto glieli abbiamo dati. Non credo, caro Lodito, che siano tutti, perché io penso che un tersino sinistro te l'abbia chiesto. Sono molto convinto di questo. Posso capire Ilic che può essere veramente un qualcosa di più se non esce Luis Alberto, penso che sia un giocatore utile, ma che in questo momento anche di troppo, ma il tersino sinistro non penso. Non penso che non l'abbia scritto, io penso che invece c'è un giocatore che serve per concludere questo mercato, che ripeto, è un mercato da sette e mezzo. Sarebbe stato da otto con l'arrivo di Ilic, io con l'arrivo di Vessino ho dato sette e mezzo, col tersino sinistro sarebbe otto. Comunque diciamo sette e mezzo, otto, ma perché? Nell'ottica sarri. E il problema mio è quello, però, che tu hai fatto un mercato dove voi mi dite non puoi dire nulla perché stavolta ha speso cinquanta milioni e invece ti dico tutto perché hai fatto in calcolo, cinquanta milioni per quanti acquisti? Sei stato costretto a comprare perché? In che condizioni sei arrivato alla fine della scorsa stagione? Quanti ai giocatori hai perso? E quanti se ne stavano andando? Quanto tu negli anni precedenti hai sbagliato? Quanto non hai programmato? Diciamo che sì, hai speso e onestamente nessuno credeva che l'ordito arrivasse a spendere, ma è stato molto forzato e poi se vai a vedere, alla fine a parte forse Vessino che è arrivato a zero, hai comprato sette giocatori per 49 milioni, quindi stiamo parlando di sette milioni al giocatore. Non hai fatto investimenti, dici ammazza, hai visto chi t'ha preso, ci ha speso 20 milioni, a parte è meglio che non gli spendi 20 milioni perché se devi spendere per giocatori come Murice è meglio che non li spendi, però... Ma al di là di quanto si è speso, ma alla fine chi è entrato? Chi è entrato? Giocatori interessanti, giovani, va benissimo, a me mi piace tantissimo avere una squadra molto più giovane, però è tutto da vedere, è tutto da formare, è tutto da plasmare, per questo dico che è importantissimo il ruolo di Sarri e secondo me Sarri però... non lo so ragazzi, l'ho sempre detto, io lo vedo un allenatore molto più limitato di quello che viene raccontato, un allenatore che sì, ama il calcio, gli piace fare calcio, ma che ha una visione del calcio molto ristretta, molto datata, vi dico anche, e quindi mi preoccupa molto, però ripeto, questo è l'anno in cui Sarri può smentirmi tranquillamente, anzi io lo mi auguro, lo spero, lo firmo, gli do veramente carta bianca affinché mi dici guarda stronzo, hai visto come ti sbagliavi, contentissimo, fammi vedere i risultati, fammi vedere una grande Lazio e io, muto e ras, ti dico bravo, c'avevi ragione, non ci ho capito un cazzo, questo è. Ovviamente tifo dalla prima giornata fino all'ultima, non parto prevenuto, ma parto un po' preoccupato, è per questo che il mercato mi preoccupa, perché se il progetto Sarri non dovesse decollare, tu hai fatto una squadra per quell'allenatore, con dei giocatori che poi, nelle difficoltà, se non ci pensa l'allenatore e le cose dovessero cambiare, poi non è facile, non è facile. Per quanto, ripeto, sono per me tutti giocatori comunque interessanti. A parte Casale, che è un giocatore che non avrei preso, non ci avrei speso soldi, Gila secondo me potrebbe addirittura diventare il titolare, manca il tersino sinistro, se rimane Acerbi per me abbiamo una bella difesa, se Acerbi va via mi preoccupa il fatto che dietro a Romagnoli non ci sia praticamente, non si sa chi c'è, insomma, o Kamenovic o non si sa chi c'è. Al centrocampo, ripeto, se dobbiamo, è vero, io ve l'avevo detto all'inizio, adesso Sarri si è convinto pure lui, forse non è il giocatore ideale Marcos Antonio, ma sicuramente è meglio di Cataldi. Poi comunque abbiamo Vessino, sono contento che sia arrivato, Cancellieri secondo me non può fare il vice mobile da subito, lo potrà diventare, forse sì, è meglio che questo giocatore possa dimostrare quello che ha già dimostrato, ha fatto vedere se perché sei arrivato al Verona, sei arrivato in nazionale, è perché ha fatto cose buone nel suo ruolo, snaturarlo, metterlo in un altro ruolo per adattarlo, per forzare le cose, secondo me non hai un attaccante e perdi un'ala, secondo me. Quindi insomma è tutto da vedere, ripeto, è tutto nelle mani di Sarri, quindi noi attenderemo e tiferemo. Passati, diciamo, quinto, sesto e settimo posto, le quattro che se le giocano ovviamente sono Juve, Milan, Inter e Roma. E ragazzi, ve li ho messi secondo me come arriveranno, ovvero quarta Juve, terza Milan, secondo Inter e prima la Roma. Ebbene sì, la Roma che secondo me quest'anno potrebbe fare il colpaccio. Vi vengo a spiegare anche il perché. La Juventus intanto io vedo che ha messo giocatori interessanti, ma il problema secondo me da Juventus si chiama Allegri ed è in panchina. Perché non basta mettere giocatori, sicuramente avere Chiesa e Di Maria e avere Kostic può aiutare molto a fare bene, ma io dal centrocampo indietro vedo molta difficoltà. E non credo che Paul Pogba possa durare molto se non si opera. Quindi non lo so, la Juve non me la fido, cioè non mi fido della Juve per quanto la metto sicuramente da quarto posto, quindi in Champions, meglio di Lazio, Napoli e Fiorentina. Poi c'è il Milan, che non ha rivoluzionato molto, ha aggiunto qualche giocatore, perde che sì, però l'anno scorso per me ci sono stati tanti fattori che l'hanno portata, secondo me a finire un percorso che aveva iniziato qualche anno prima. Per me andava un pochetto risistemata la faccenda, non penso che abbia le forze per riconfermarsi tanto da lottare, poi magari sarà così. Vedo più lottatrici quest'anno Inter e Roma. E perché secondo me la Roma alla fine la spunterà? Perché intanto la Roma ha la squadra dello scorso anno e ci è aggiunto veramente degli ottimi giocatori, utili alla causa, con esperienza, con capacità, con qualità. E poi perché, parliamoci chiaro, se si dovesse arrivare a un rush finale Inter-Roma, Mourinho, ve l'ho già raccontato più di una volta, Mourinho è quell'allenatore che riesce a tirar fuori la concentrazione, la grinta e la voglia di arrivare al traguardo, mentre Simone Inzaghi purtroppo ogni volta, l'ho fatto anche a Lazio, che deve dimostrare che la sua squadra deve rimanere solita e convinta e a fuoco sull'obiettivo, in realtà poi si scioglie come neva il sole. È successo anche l'anno scorso dove l'Inter ha perso all'ultimo su delle partite che avrebbe potuto vincere, non dovuto, proprio potuto, oltre a aver dovuto vincere e perde lo scudetto proprio perché all'ultimo non c'è stato quell'energia e quell'attenzione che invece probabilmente Mourinho riuscirà a mettere alla Roma. Quindi siccome che io metto un testa a testa Inter-Roma, però secondo me proprio gli allenatori anche in questo caso faranno la differenza. L'allenatore, in questo caso Mourinho, potrebbe portare a mettere il naso avanti all'Inter proprio all'ultimo. Ripeto, questo è un anno ragazzi dove molto diranno gli allenatori. Spalletti con una squadra meno forte cosa riuscirà a fare, Sarri con una squadra totalmente fatta per lui cosa riuscirà a fare, Inzaghi con un Lukaku in più cosa riuscirà a fare. In realtà Pioli penso che non abbia... Pioli lo vedo uno che più o meno è arrivato al massimo, ecco, solo per quello. Una bella squadra ma non penso che possa dare di più, per questo penso che rimarrà in alto ma non se la giocherà. E poi Mourinho che vediamo quello che riuscirà a fare con tutti questi giocatori che molto dipenderà anche quanto Mourinho dedicherà tempo, spazio e giocatori alla Coppa perché se punterà molto anche all'Europa League potrebbe lì essere quello l'elemento di disturbo per una vittoria del campionato. Ma suppongo che se dovesse giocarsela fino a un certo punto e vede che ha la possibilità di vincere il campionato non credo che continuerà sull'Europa League, penso che punterà proprio sul campionato. Comunque vedremo ragazzi. Vi ho detto, secondo me quest'anno la Roma potrebbe farci uno scherzetto che ovviamente a noi e a me personalmente non piacerebbe affatto. Quindi la si gufa però bisogna prendere atto che è diventata una bella bella squadra perché sono stati messi i giocatori giusti al posto giusto. Forse manca un elemento in più in difesa? Forse lì ci sarebbe da migliorare ancora qualcosina ma è già così secondo me. È tanto tanto competitiva e sicuramente lì davanti è tanto tanto pericolosa. Ragazzi fatemi sapere secondo voi, mettetemi qui nei commenti le prime quattro classificate, non vi dico da scrivere tutte e otto, se poi le volete scrivere le prime otto mettetele come voi, mi basterebbero le prime quattro. Nei commenti vi ringrazio e olive dolci e buon campionato.